Un'altra delle cose, dei problemi, degli errori che ho visto che hanno gli uomini, soprattutto imprenditori, persone ambiziose, persone che si interfacciano all'ambito del miglioramento personale, è fatto di non riuscire a relazionarsi con persone normali, persone che non si migliorano costantemente. A cosa serve fare tutti i soldi al mondo se poi non hai la donna giusta al tuo fianco? Scopri la guida definitiva per imprenditori impegnati che vogliono trovare l'anima gemella ma senza togliere tempo al tuo business. Accedi in sconto a soli 47 euro fino al 21 settembre. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni. Questa è una cosa che avrai già notato se fai imprenditore sia che sei inizi sia che sei già a business molto ben avviato. Se sei a business molto ben avviato lo sai che avrai perso le persone con cui ti frequentavi agli inizi che sono rimaste dove erano e tu sei cresciuto e migliorato nell'ambito business e per migliorare nell'ambito business sei cresciuto mentalmente eccetera. e il problema è che poi ti relazioni meno anche con le ragazze. Le ragazze maggior parte sono con gli uomini, maggior parte le ragazze anche loro non hanno una mentalità aperta dove si migliorano. Ora quando vai a cercare il tuo partner ideale assolutamente devi andare a cercare una ragazza che anche lei ha la propensione per il miglioramento personale e ne parleremo penso in una lezione successiva in questo corso. Ma il problema è che poi ti diviene più difficile relazionarti se sei tanto ambizioso, se sei un treno merci verso gli obiettivi ti viene chiaramente poi se costantemente spendi un sacco di ore al giorno a formarti chiaramente poi il gap mentale, il distacco mentale è enorme rispetto a una persona che non si forma che semplicemente ha studiato quello che ha studiato a scuola, che ha studiato in università e poi ha finito la formazione che non si migliora, non si aggiorna su niente, che ha una vita che non gli piace e si tiene quella vita lì. Il gap mentale è enorme ma quello di capire è che devi un minimo normalizzarti quando interagisci con le ragazze. Non può essere lì che nell'appuntento le parli, ma io faccio gli obiettivi, io faccio questo, io faccio quello. Sì, assolutamente sì, lo devi imparare a comunicare in modo relazionabile con le ragazze, ma un minimo devi normalizzarti quando interagisci con una ragazza, ok? Non puoi stare a parlare, ah se ho fatto questo corso di crescita personale l'altro giorno dove ho visto questa cosa qui magari la ragazza ti dice, non so, che esce la sera a ubriacarsi e tu le dici, ah ma lo sai che le persone che si ubriacano non raggiungono più gli obiettivi di vita, puoi dire il genere a una ragazza in un appuntamento, devi un minimo normalizzarti benissimo, probabilmente non sarà la tua compagna di vita, ma puoi comunque farci sesso, puoi tenerti a come scopamica non è che deve essere perfetta come una potenziale fidanzata, ok? Quindi occhio a non commettere questo errore, non so, se una ragazza in un appuntamento ti dice che fai balletti su TikTok, io penso e probabilmente lo pensi anche la maggior parte delle persone che sono in questo corso che chi sta tutto quanto il giorno a friggersi il cervello su TikTok è un imbecille, ok? Non puoi dirlo a una ragazza, non ha senso, puoi scherzarci magari, puoi dirle, ah ma veramente passi le giornate su TikTok pensavo fossi più matura, però però devi dire con il sorriso, chiaramente in un'atmosfera scherzosa prendendola un po' in giro, quindi in quel caso ci può anche stare, ma dirio seriamente, cioè non lo puoi dirio seriamente o se una ragazza ti dice che, non so, ti chiede che segno sei e tu sai che i segni zodiacali sono delle puttanate, delle minchiate poi non puoi dirle, ah ma credi in i segni zodiacali, ma sei stupida, sai che sono delle minchiate devi normalizzarti un po' quando interagisci con una ragazza, ok? Poi troverai anche quelle che hanno il potenziale, che hanno l'apertura mentale per il miglioramento personale ma anche lì comunque non è come quando magari parli con un tuo amico, collega, imprenditore è un modo diverso di parlare e di relazionarsi, consiglio caldamente il corso che ho citato prima tradotto le donne a uomo per capire bene meglio la psicologia femminile, per sapere se la relazione è meglio quindi ti devi un po' normalizzare, capire che non tutti quanti avranno successo nella vita ti fa bene così? Non è che devi stare a vomitarle addosso i tuoi valori, le tue ambizioni tu fai quello che fai, non è che devi stare a menarle il torrone con... anche tu dovresti avere obiettivi a... non so, magari ti dice che vorrebbe visitare, non so, il Giappone perché vorrebbe andare a fare la vacanza alle Maldive perché è il suo sogno di vita e tu ti dici, in che senso è il suo sogno di vita? Dovresti mettere una scadenza? Dovresti fare delle azioni verso il tuo obiettivo? Ma non puoi dire, lasciala stare, chiedere qualcosa, non so, cazzo, non so, chiedere qualcosa riguardo al perché ha questo sogno, questo obiettivo qual è la sua città ideale dove vorrebbe vivere? Ma non prendere quella corrente lì no, ok, quindi devi normalizzarti un po' quando interagisci con le ragazze ripeto, ciò non significa poi fidanzarsi con una stupida, ok, con una ragazza chiusa mentalmente quello no, ne parleremo in una lezione successiva la tua ragazza, la tua compagna ideale di vita deve assolutamente avere la propensione per il miglioramento personale ok, se ti metti con una ragazza chiusa mentalmente al miglioramento personale che pensa che i corsi siano delle cagate, delle truffe, delle stronzate io regolarmente mi metto con la mia ragazza e le spiego cose riguardo i soldi per esempio cose che ho preso da corsi che ho acquistato io in primis se sono corsi in Italia, la mia ragazza non è una italiana se sono corsi in italiano mi metto lì e le faccio o la traduzione in simultanea oppure spiegamente le spiego più o meno le cose poi prendo degli appunti in inglese davanti a lei in modo che li può riconsultare o se sono corsi in inglese, te direttamente, le do accesso le sono cose che deve sapere anche lei ma ci deve essere una base chiaramente di apertura mentale verso il miglioramento personale e anche se comunque non c'è in realtà se porti molto valore alla relazione adesso ci sono tante cose che dovremmo vedere poi chiaramente consiglio l'acquisto anche degli altri nostri percorsi formativi in particolare per questo discorso invece il corso quello per cui si costruisce una relazione in coppia è successo se tu porti tanto valore alla relazione in coppia la tua ragazza sarà in realtà molto influenzabile se vede dei risultati tangibili nella tua vita e tu la rendi partecipe del fatto che quei risultati derivano da un certo tipo di formazione che hai avuto lei è tranquillamente aperta a ricevere anche lei formazione su quello specifico argomento formazione che magari le passi te nella stessa lingua che parla lei oppure se no ti metti se magari tu avrai una fidanzata che non parla l'italiano che non parla la tua lingua puoi mettere tu e spiegargli le cose che sono cose, ci sono certe cose che sono importanti che anche la tua ragazza sappia a che cosa serve fare tutti i soldi al mondo se poi non hai la donna giusta al tuo fianco scopri la guida definitiva per imprenditori impegnati che vogliono trovare l'anima gemella ma senza togliere tempo al tuo business accedi in sconto a soli 47 euro fino al 21 settembre clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni grazie